Germania sotto shock per la macabra uccisione di un bambino di 9 anni messa in rete dal presunto autore su Darknet, la rete protetta solitamente usata da perseguitati politici e giornalisti, ma sempre più anche da criminali. Teatro dell'accaduto è Hean, città di circa 150.000 abitanti a 20 chilometri da Dortmund. Attualmente ricercato, l'indiziato numero uno è un vicino di casa della vittima, di appena 19 anni, nelle immagini riconoscibili accanto alla salma con le mani imbrattate di sangue. La polizia, che ne ha diffusa la foto, sostiene sia pericoloso ed esume dalle sue affermazioni in rete che possa essersi macchiato di ulteriori crimini.